Eccoci di nuovo in studio con altre notizie. Ci occupiamo di economia, imprese senza liquidità. In Alto Adige diminuisce il numero di assegni e cambiali protestati ma aumenta considerevolmente il loro importo. 8 milioni 400 mila euro. È questo l'importo record in negativo riguardante gli effetti protestati in Alto Adige. Il dato è stato diffuso da Union Camere nell'ambito della pubblicazione dello studio sugli effetti della crisi nelle imprese. Si tratta del 15,1% in più rispetto al 2007 con 2.169 casi complessivi. A livello nazionale invece il numero di effetti cabriolet è aumentato dello 0,7%. Il dato pare non preoccupare l'Istituto di ricerca della Camera di Commercio di Bolzano. La statistica conferma però, ha sottolineato Stefano Perini, ciò che notiamo da più di un anno, ovvero il peggioramento della morale dei pagamenti. Oggi le aziende fatturano a 30, 60, 90 giorni e spesso vengono però pagate 120 giorni dopo l'emissione della fattura. Il fenomeno, secondo Pino Salvadori della CNA, è ormai quasi fuori controllo. Ogni settimana abbiamo decine di casi. La giunta provinciale, vista la situazione, ha dato avvia ad un provvedimento ad hoc. Si farà garante fino all'80% delle somme non riscosse attraverso confidi di secondo grado, consentendo alle aziende l'accesso al credito bancario garantito dall'ente. Questa misura, conclude Salvadori, potrebbe dare ossigeno alle imprese. Certo, c'è da chiedersi. Basterà?